io 15 anni fa invece qua ero ubriaco perso perché avevamo appena vinto lo scudetto io sono qui per far sì che sostanzialmente questi ragazzi che ho qua dietro alle mie spalle riescano a vivere sostanzialmente quello che ho vissuto io qui da giocatore ha le idee chiare Gianmarco Pozzecco forse non sarà subito e sicuramente non sarà facile ma vuole riportare Varese a competere nell'elite della Serie A per me come loro compagno di squadra perché poi alla fine di questo si tratta voglio che stiano bene insieme voglio che si divertano voglio che capiscano nella passata stagione poche soddisfazioni per Varese e ora al Poz il compito di riaccendere l'animo dei tifosi è logico che quando esco di casa devo farmi vedere sereno anche se purtroppo in questo momento non lo sono guarda facciamo così vieni a casa mia dopo e mi vedi disperato lì sul computer che cerco di trovare le soluzioni più adatte che poi non le troverò mai perché l'unica soluzione è che chiaramente ci sia una certa alchimia in campo dettata da anche determinate coincidenze e il destino ha voluto che la prima sfida e il primo ostacolo per la risalita di Varese fosse proprio il derby la gara che tutti aspettano per un anno intero sarà già realtà è anche questo il bello della vita cioè il fatto di viveremo emozioni forti questo sicuro poi chiaramente almeno all'inizio della gara poi il dopo sappiamo benissimo tutti quanti che dipenderà dal risultato le emozioni dipenderanno da quello le immagini di repertorio finiranno nel cassetto Ozzecco vuole cominciare a scrivere una storia nuova una storia gloriosa